Vede, così sarebbe stato tra dici anni, e così tra venti. Aveva paura di invecchiare, anche se io gli dicevo sempre che avrei amato ogni sua ruga. È strano, da quando non c'è più tutto mi sembra diverso. Voi donne date importanza delle cose che noi neanche vediamo. Lei ha dei piccoli semi qui, non se li faccia mai toccare, fanno parte del suo carattere. Signor Montello, lei non mi ha detto la verità sul tentato suicidio di sua moglie, perché? Ma cosa serve sapere perché lo fece? Ma forse niente, ma a me serve sapere perché mi ha mentito. Non volevo... Non volevo sporcarne il ricordo, e sembra strano. Tutti idealizziamo le persone che amiamo. Allora... Lei è venuta soltanto per questa piccola bugia. Ma tutto può essere importante. Stiamo cercando un assassino, un movente. Allora non pensate più a quella banda. Arancia Meccanica è una delle ipotesi, ma ce ne sono altre. E quali? Non abbiamo nemici, non diamo fastidio a nessuno. Ma tra voi andavate d'accordo? Molto. È tardi. Non deve tornare a casa. Lei che è ancora una fameggia. Siamo solo io e mia figlia. E lei è abituata ai miei orari. Quanti anni ha? Quattordici. Quattro. Ma questa bello, non lo è vero di sì?